8 febbraio 1904, Port Arthur, Manciuria. È notte, quando la flotta giapponese sferra a sorpresa un attacco a una flotta russa ormeggiata in porto. La battaglia, che prosegue il mattino seguente con scontri a terra, segna l'inizio della guerra russo-giapponese per la conquista della Corea. Il conflitto si concluderà nel settembre del 1905 con la vittoria giapponese.